di Spoleto nella serie di spareggi per la promozione in Superlega adesso tutta la città crede nella grande impresa di Bertoli e compagni il servizio di Antonello Brughini Quando Michele Morelli, lo schiacciatore foggiano autore di 17 punti mette giù l'ultimo pallone, splendido attacco da posto 2 davanti agli occhi dei tifosi spoletini scorrono in un attimo le immagini della festa le immagini se vogliamo del paradiso qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa la Monini a Zanna e strapazza in trasferta a Siena 3-1 il finale e si porta avanti 2-1 nella serie della semifinale promozione la Superlega, il campionato più bello e difficile del mondo adesso è un traguardo possibile la città spinge Bertoli e compagni il coach provvede consapevole della compattezza del suo gruppo ma la storia non è finita domenica pomeriggio il primo infuocato e attesissimo match ball al Palarota in caso di vittoria lo ricordiamo Spoleto sarà in finale si giocherà alle ore 18 la gara di Siena contro una delle favorite da sempre per il salto di categoria ha regalato sprazzi di ottima pallavolo la Monini Spoleto ha confermato in pratica tutte le sue qualità comandando le operazioni e lasciando pochissimo spazio all'iniziativa di Toscani da segnalare soprattutto i 20 punti di Bertoli e i 13 punti di Mariano oltre come detto alla bella prova di Morelli Spoleto insomma ci crede un altro tassello è stato messo al suo posto per completare il preziosissimo puzzle serviranno ancora grinta e lucidità Grazie 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 Grazie.